La Vigor-Sangataldo, dopo le vittorie contro Scigli e Leonforte, cade sul campo della Sicilgrassi per 2-1, priva degli acciaccati Niccoli, Garcia Marquez e il portiere Camilleri. Non proprio una giornata favorevole ai sangataldesi che, nonostante la sconvitta, la prestazione è stata incoraggiante. La Vigor tornerà in campo in campionato tra due settimane, visto l'impegno di sabato al Palamaira in Coppa Italia contro il Cus Palermo. Calcio a 5, Serie C1, girone B, risultati della decima giornata. Città di Leonforte, Scicli Sporting Club 4-3, Fuzza Alferla, Cireale 4-6, Via Grande, Montalbano 6-7, Vigor Italia, Carlentini 2-1, Real Palazzolo, La Madonnina 1-4, Sicilgrassi, Vigor San Cataldo 2-1, riposa Redusa 94. La classifica. A Cireale 27, Sicilgrassi 20, Fuzza Alferla 19, Vigor San Cataldo 18, Carlentini 16, Vigor Italia 15, Montalbano e La Madonnina 12, Via Grande 10, Città di Leonforte 9, Scicli Sporting Club 7, Aretusa 94-6, Real Palazzolo 2. Nel campionato di C2, il Caltanissetta Socher esce sconfitto dal Palamilane per 2-3 contro Fulgentissima, che così facendo lascia l'ultimo posto in classifica e supera proprio la combaggia Nissena. Calcio a 5, Serie C2, Girone C, risultati della settima giornata. Arcobaleno Argyrium 6-2, Pedara Grigendo Fuzza all'8-2, Polisportiva Nicosia Next Level 7-2, San Nicolò Nicosia Fuzza al 6-0, Città di Canicattì Fuzza alla Cireale 8-1, Caltanissetta Socher Fulgentissima 2-3, la classifica. Città di Canicattì 19, San Nicolò 17, Pedara e Polisportiva Nicosia 15, Arcobaleno 14, Argyrium 13, Nicosia Fuzza al 10, Next Level 7, Fulgentissima 4, Caltanissetta Socher 3, Agrigendo Fuzza al 2, Fuzza alla Cireale 1. Nel calcio a 5 femminile, la nuova pronissa crolla in casa contro il Don Bosco Mussomeli per 1-4 dopo aver vinto le prime due partite di campionato. Calcio a 5 femminile, Serie C, risultati della terza giornata. Nuova pronissa Don Bosco Mussomeli 1-4, Leonese White, atletico Campobello 3-2, a gira Reallicata 5-3, riposa a Don Bosco 2000. La classifica. Don Bosco Mussomeli 7, a gira Leonese White, nuova pronissa 6, atletico Campobello 1, Reallicata e Don Bosco 2000 0. Abbiamo tanto da migliorare il lavorale, siamo una neo, siamo una delle giovani diciamo, abbiamo iniziato anche il ritardo e quindi è un campionato difficile e tosto, lo sapevamo. Abbiamo avuto anche una mancanza che è il portiere e quindi penso che questa sia stata anche la cosa che è un po' impluito anche in questa sconfitta. Dobbiamo crescere, dobbiamo crescere perché noi veniamo da maggior parte delle mie ragazze, sono tutte, escono fuori dal calcio a 11, quindi c'è da lavorare, c'è da lavorare tanto. Siamo partite un po' svantaggiate in confronto alle altre squadre perché siamo partite in ritardo, ma va bene così, va bene, siamo pronte a lavorare. È una partita giocata molto bene dalle nostre ragazze, venivamo in un campo, come dicevi, difficile, da una squadra che veniva da due vittorie consecutive. Sapevamo il peso di questa partita, l'abbiamo interpretata nel migliore dei modi, aspettando quando c'era da aspettare, attaccando e colpendo quando poi si presentava l'occasione. Secondo me la Pronis è un'ottima squadra e se non è riuscita a fare quello che fa di solito, credo che sia anche merito delle mie ragazze che in difesa hanno chiuso quasi tutto quello che c'era da chiudere. Noi giochiamo per divertirci, il nostro quarto campionato FIGC, non ci poniamo in questo momento alcun obiettivo, vedremo più in là, penseremo partita dopo partita, dove ci porterà il campionato.